Grazie, buonasera. Sono assai lieto di essere qui a parlare di questo libro che è un ottimo libro. È un libro serio, importante, come non se ne fanno più tanti. È un libro le cui tesi fondamentali mi trovano sostanzialmente d'accordo. Questo è un libro che presenta un Marx continuista rispetto a Hegel, continuista in se stesso, cioè non ci sono le terribili cesure che qualcuno ha visto nella evoluzione intellettuale di Marx, continuista perfino con una discreta parte della riflessione del marxismo occidentale, perché di questo si tratta nella prima metà del Novecento. E soprattutto mi trova consentanile nella tesi di fondo che c'è e che anima probabilmente anche in senso di motivazione la stesura di questo libro. che è questa, che quella di Marx e quella di Hegel. Non sono narrazioni. E questo è il punto, appunto di tutti i punti, ovvero sono presumibilmente l'ultima pretesa nell'ambito della filosofia, una pretesa analoga ce l'ha la scienza della natura, l'ultima pretesa nell'ambito della filosofia di pensare, l'andare di pari passo del pensiero e della cosa. Questo andare di pari passo del pensiero della cosa è il leitmotiv della filosofia occidentale. Il mondo è pensabile e ci importa pensarlo, che il soggetto può pensare l'oggetto. Qui c'è l'ultima voce di questo impulso e aveva ragione, il giovane Foucault quando diceva Marx non ha prodotto una frattura totale rispetto a ciò che aveva preceduto, perché almeno questo impulso c'è. Naturalmente non è più il soggetto che pensa l'oggetto, ma è il formarsi del soggetto oggetto, ovviamente, se ha un contesto dialettico. Non di meno l'idea che questa non è una narrazione, è l'idea forte che c'era dentro la testa di Hegel e dentro la testa di Marx. Detto in un altro modo, la totalità esiste, non è una grammatica né una sintassi, è la realtà. Esiste un pensiero capace di pensarla in modo non arbitrario. Non arbitrario, cioè non è che una narrazione né vale un'altra. Detto ancora in un altro modo, non tutto è possibile. Il reale è razionale, secondo la misura in cui quel reale è anche necessario, è il pensiero che pensa quella realtà razionale, lo pensa come tale solo perché ne vede la necessità, anzi ne fa emergere la necessità. La coscienza produce il mondo, certo che sì, la verità è quella. Ma questa produzione non è un segno. Non è un segno. La differenza che c'è fra De Bodde e Bodria è questa. Cioè che uno dice, tutti e due dicono, a questo modo non non vi è che immagine e rappresentazione. Ma uno dice questo e basta, l'altro dice perché c'è questo. Perché l'immagine è prodotta dalla potenza della merce. Questo potrebbe assolutamente niente. Guardate, questa è la più grande posta in gioco della storia della filosofia. Dopo la vera cesura non viene con Marx, non viene con me. Marx è uno che chiude un'epoca e dice che tutto è possibile. E dice che scardina il teorema della pensabilità. Perché in realtà la questione non è più pensare il reale, ma si vede nel pensare un atto di puro dominio. È sempre stato così e sarà sempre così. A questo punto il pensare non è più essenziale. Qui invece siamo davanti all'ultima potenza del pensare che attraverso la produzione del pensiero scopre che il soggetto produce se stesso e produce anche la realtà, come dire, storico fattura. Da qui ciò a cui il marxismo non può rinunciare a una filosofia della storia. Non puoi dire io sto dentro la dialettica e puoi dire boh la filosofia della storia è un rottane, lo butto via. Puoi. Io l'unica correzione che farei a questo libro è che secondo me... Allora, Marx sicuramente si impegna in vari luoghi a tracciare delle coordinate, chiamiamole, transepocali. Sicuramente si trovano, ci sono. Quello che io dico è che non c'è bisogno di questo. Quello che Marx in realtà, di cui ha assoluto bisogno, è una filosofia della storia moderna. Cioè la filosofia della storia del capitale. Cioè l'idea che il capitale nasce, si sviluppa in un certo modo e deve produrre il soggetto e le catastrofi che lo porteranno a una trasformazione radicale. Non c'è bisogno di prendere per buona quello che Marx sicuramente ha scritto, cioè che lui ha scoperto la legge fondamentale della storia come storia della produzione economica e del conflitto di casi non in forma di produzione economica e del passaggio di una formazione socio-economica ad un'altra attraverso la catastrofi. Questo secondo me è la parte caduca, è il tributo pagato al positivismo ottocentesco, è il tributo pagato allo spirito di sistema che c'è e come, altro che no, c'è e com'è. E ha pure ragione a mettercelo allo spirito di sistema, perché quando si dice dialettica non è una relazione, è come dire il sistema è nella cosa. La cosa è sistemabile, la cosa con la cimaiuscola, cioè il capitale, la società nel suo muovere. E direte, beh, è ovvio tutto ciò. Per me sì, che ho tutti gli anni che ho e che mi sono formato quando tutto ciò era un discorso abbastanza comune. Ecco, la cosa incredibile, impressionante, è che tutto ciò è scandale e follia, stoltezza e barbarie. Per le orecchie e per i cervelli, del 99% degli intellettuali di ogni razza e credo e specialità accade. Qualche esempio. Io mi sono fatto 5 anni di Parlamento, lui è stato meno fortunato o più fortunato, ne ha fatto un po' meno. Sulla base del principio, ovvio per chi pensa dentro questo modo di pensare, che far filosofia e far politica è praticamente la stessa cosa. Bene, io non ho mai, dico mai, sentito la parola capitale pronunciata da alcun esponente di alcuna forza politica dall'estrema destra all'estrema sinistra. Mai, e non l'ho mai sentito pronunciare, nemmeno in un contesto di discussione politica legata a questo o quel partito. Mai. Mi dite, beh, perché sei così attaccato alla parola capitale? Ma per niente, voglio dire, la parola capitale significa soltanto che hai capito che c'è un sistema e che le cose non si danno in modo analitico, ma si danno in modo analitico, certamente, ma perché c'è una logica. E che questa logica è comprensibile. Un altro test. Andate voi a dire la parola neoliberismo davanti a un economista neoliberista. ne nega l'esistenza. Esiste una sola realtà, che è quella che c'è qui, che non ha passato, è puro presente, si manifesta in vari modi che, se il mondo fosse come dovrebbe essere, sarebbero tutti sotto controllo del nostro sapere analitico. Poi, purtroppo, ci sono i sindacalisti, i politici, che volete voi, disturbatori, che producono rumore. E questo rende le cose difficili. Voi capite, la potenza, non sto dicendo che tutto ciò è un meno, tutto ciò è un più. Cioè, la potenza che si acquisisce quando si rinuncia alla dialettica. Perché davvero puoi pensare che tutto è possibile. E lo puoi pure fare. Chi si mette dentro questa strada, dentro questa strada, si mette dentro una strada che di solito viene criticata come la strada della infinita superbia dell'Io, che pensa di poter dominare il corso della storia e cambiare la realtà in umanità. In realtà, questa è una strada di grande umiltà. Questa è la strada della fatica. Certo che puoi cambiare il mondo, certo. Facendo l'immane fatica di pensarlo in tutte le sue determinazioni, in tutte le sue contraddizioni. L'immane fatica di esporre il soggetto pensante a tutte le contraddizioni. Fino a quella suprema, che è la sua scomparsa. Cioè, Luca ci diceva queste cose. Poi le avrà anche ritirate dicendo che non sapeva quel che diceva. Invece lo sapeva benissimo. Questa è una filosofia dell'assoluta umiltà. E questo nasce dalla mia lettura giovanissima di Adorno, che appunto parlava di Hegel, come di un filosofo dimesso e sommesso. Mentre invece i filosofi della potenza, del grande gesto, sono quelli che buttano via la dialettica. Dicono, tutto si può fare. Volontà di potenza, decisione. E lì c'è la ibris. Noi dialettici, io mi ci metto, perché l'ho studiato tutta la vita quasi solo dei pensatori non dialettici, perché c'è una ricchezza enorme, se sia ben chiaro. Ma noi dialettici siamo delle formichine. Siamo delle formichine che vogliamo portare pesi più grossi di noi in lunghissime tragetti, con la pretesa che sì, alla fine ci arriviamo a costruire una società regolata, il formicaio dove nessuno comanda. Allora, noi oggi siamo all'interno di un universo che produce un esso storico, che produce se stesso rinunciando alla storia, che non a caso è la materia scolastica più negletta e che è meno tutelata dalle corporazioni del potere. non ne vogliono sentire, la storia non esiste, non deve esistere. Iniziamo in un universo che vuole essere privo di storia, eterno presente, che nega la possibilità di essere compreso come un tutto. Si presenta come un tutto ai nostri occhi, ma si propone come un infinito gioco di specchi in cui l'infantile soggetto ridotto a infante, cioè che non parla, si specchia ora in questo, ora in quello, ora in quell'altro specchio e così vive una bella vita a frammenti e se è fortunato se ne appaga, se è sfortunato peggio per lui. Allora voi dicono, ma perché sono diventati così malvagi? Perché il mondo è così malvagio? Perché? Perché noi non sappiamo se siamo nel momento in cui, questo proprio non lo sappiamo, nel momento in cui la dialettica tace per sempre o semplicemente in una fase costruita in questo modo. insomma, la scommessa del presente è le contraddizioni non sono produttive, ve le tenete e ci restate sotto. La scommessa del pensiero del retico è le contraddizioni cambiano, producono cambiamento, purché ci sia un soggetto che abbia voglia di interpretarlo. da cui la enorme fatica che il nostro sistema presenta nell'accogliere momenti in cui le persone insieme ragionano e parlano. E' la grandiosa invenzione di internet come invenzione di separazione e di immediatezza. Grandiosa. Noi non sappiamo se la dialettica è stata il sogno di una cosa. Proprio non abbiamo gli strumenti. In questo momento certamente il pensiero dialettico è minoritario nell'accademia, in modo straziante, cioè si vanno perdendo pezzi di sapere anche tecnicamente indispensabili per fare il nostro mestiere. Non solo è minoritario nell'accademia, ma pare non essere più in grado di afferrare la cosa che sia pure a piccoli morsi di tante formiche era esattamente ciò che voleva fare e che dava per scontato si potesse fare. ci vuol pazienza. Ci vuol pazienza. Tanto bello studio, accanito. Pensiamo che l'ultimo grande pensatore dialettico italiano ha avuto obbligatoriamente pazienza perché l'avevano chiuso in carriera. E invece di disperarsi c'è anche disperato. ma insomma quando non era disperato pensava. E quel pensiero è servito a qualche cosa. Ora nessuno di noi è chiuso in quel tipo di galera. Siamo chiusi forse in un altro tipo di galera. In un'altra gabbia d'acciaio. l'idea che si possa andare avanti soltanto per colpi, eventi, decisioni che sostanzialmente hanno come obiettivo che la contraddizione resta. non esistante. Non è produttiva, è soltanto spostata. Oppure che abbiamo una capacità di riprenderci in mano il nostro destino, sostanzialmente è questo. Questa idea è la grande protagonista dell'interrogativo radicale di chi fa filosofia oggi. All'interrogativo evidentemente Alberto Bugio dà una certa risposta. Io non riesco a non darla anch'io in quel senso. Cioè l'idea di vivere in un universo fatto solo di decisioni con tutto il fascino che ha la decisione vuol dire vivere in un universo dove non capisci più, dove non c'è più niente da capire. dove non c'è più niente da capire. Allora a priori non c'è più niente da capire. Non solo, ma vuol dire vivere in un universo che porta dentro di sé contraddizioni potentissime, enormi, che vengono definite come errori di qualche algoritmo. Sì, sì, è vero. Abbiamo impoverito le società invece che arricchirle. Sì, perché il coefficiente di valutazione era, quello vero era 2,5 ma invece l'avevamo messo dentro una macchinetta 1,6 e questo ha scassato tutto, scusate. Oppure la contraddizione è, e ci fa parte della natura umana, ma cosa vuoi, la felicità per tutti, è contenta di quel che passa il convento e pensa come si stava male per l'ina. Oppure ma quale contraddizione? Va tutto benissimo. Potete scegliere, questa è la gamma, è la gamma delle risposte che sono sul tappeto, le risposte politiche che sono sul tappeto. Va tutto benissimo, se non ci fossimo sbagliati sarebbe nato tutto benissimo. Non è vero che va tutto benissimo, ma cosa vuoi dalla vita? Il pensiero è un pensiero che vuole, come la sua modestia, nella sua umiltà, vuole infinitamente di più. Vuole infinitamente di più. Non vuole la luna, che è un modo di dire che mi ha sempre fatto venire i nervi, perché in realtà è tutto dentro all'idea che basti la volontà, quando invece qui si parla di produrre. Qui non c'è del volontarismo, qui c'è del sapere che è un sapere se stesso, è un saper produrre, un saper produrre se stesso. Qui c'è un pensiero che vuole molto di più ed è molto più umile, è un sapere molto più... è una via crucis. È una via crucis. C'è una trascrizione filosofica della teologia e c'è pure l'idea della salvezza finale. La fermaggia dello spirito finisce così. Ora, Max, che è sostanzialmente estraneo alla teologia politica, anzi, ho visto con grande piacere la grande importanza che Burgio dà alla questione ebraica, che è anche secondo me praticamente il testo più importante del cosiddetto Giovanni Marx, dove si confronta con la struttura profonda della modernità che è la teologia politica. la scopre, spiazza con un colpo davvero di grande intelligenza, spiazza tutta la disputa destra, sinistra e ghiliana, la spiazza, dice, siete soltanto due versioni, una più attardata e l'altra un pochino più moderna, di un unico grande problema che è quello che non vedete, quello che non vedete, cioè il problema della duplicazione del mondo. Ma la duplicazione, che è il problema che sarà poi il problema anche di Nietzsche, non la risolvi spaccando uno dei due elementi. Eh, questo è il mondo. Per cui anche in Marx c'è l'idea che alla fine c'è una conciliazione, si chiama comunismo. Non c'è l'inconciliato, c'è il conciliato. Poi il vero problema è che questa filosofia è esposta alla storia, proprio ce l'ha dentro di sé. Questo è il profilo storico. Coloro i quali si facevano in qualche modo riferimento a questo testo, trasformandolo in narrazione, ovvero in ideologia, hanno perduto. Hanno perduto e basta. non dico guardate l'Urs, dico guardate l'Italia. E per una filosofia di questo tipo, quel tipo di sconfitta è un problema, tranne che tu non riesca a dire te stesso che poi è quello che sta dietro l'attuale timida ripresa degli studi su Marx, che, dopo tutto, quell'affermazione di filiazione rispetto al pensiero di Marx era spuria, o comunque era una delle possibili interpretazioni dell'Urs, una delle possibili. Per di più avvenute in contesti molto difficili e assai diversi da quelli che erano previsti e che erano stati analizzati da Marx stesso. Il risultato è che si può ancora leggere Marx proprio con la potenza critica che c'è dentro, che dal libro viene fuori benissimo, la potenza critica che vuol dire il non... Beh, lo spirito di contraddizione ha reso sistema. Infatti, lo spirito di contraddizione ha reso sistema non perché è un gioco nella tua testa ma perché lo vedi il sistema. C'è ancora una potenza critica, c'è una potenza critica, non è stata consumata dai marxismi che sono andati al potere. Che è di solito quello che i più attenti alle proteste ti dicono, ma insomma va bene, tu sei pieno di buoni sentimenti e ami l'umanità però hai visto come è andato a finire. Allora, non si tratta di amare l'umanità, Marx non è un umanitario, si tratta di avere un'alta concezione dell'umanità in quella umiltà. Alta concezione vuol dire non è possibile che l'umanità viva senza sapere quello che fa. E per sapere quello che fa deve scavare. Scavare. è una grande immagine del suo amatissimo Cespe. Siamo in fase di scavo. Non è ancora rispuntata. Qualcuno aveva detto che era spuntata nel 1917. Diciamo che lì è spuntata una volta, ha fatto una capatina. Se guardate intorno ha prodotto qualche cosa ma poi continua a scavare. Continua a scavare. Questa è la domanda. Per saperlo ci sono due cose, studio e tassi e politica. Studio e allora bisogna leggere questo libro e libri come questo. A politica c'è anche il caso che per qualche anno sia meglio astenersene. Perché non è. E' chiaro che questo pensiero non te lo puoi tenere in tasca. Non è pensiero consolatorio. Non serve per star bene. Però non è detto che tu debba, che tu non sia in gara di accorgerti che oggi, come si dice, le condizioni oggettive non ti consentono di essere efficace e che forse la lotta politica più accesa e più grande che puoi porre in essere oggi è quella di continuare a studiare e di continuare a opporre al positivismo decisionistico sgangherato imperante il fatto che si può pensare diversamente. Si può pensare diversamente. Voi siete, molti di voi sono giovani, siete giovani, non siete ancora inseriti in contesti in cui sentite il peso. della coercizione sistemica, nessuno piglia una pistola per la punta. La coercizione è sistemica. Il fatto che ti senti un lomino giallo nella barzelletta blu pesa, pesa. Avere la forza di, come si dice, non importa continuiamo e qui cito il mio amatissimo Max Weber che con Marx non c'entra niente però aveva, come dire, grinta non importa continuiamo e anche studiare i libri importanti come questo. io potrei dire che ho una riserva sul fatto che Bungio ha messo Schmitt nella rivoluzione conservatrice e invece non è vero. Posso dire che secondo me lui pensa troppo male di Adorno e che invece secondo me non è vero. Oppure che pensa troppo bene di Annari. Però voglio dire che questa è roba è roba da filosofi così accademici. La sostanza di questo libro non accademica la filosofia è una cosa seria non è una narrazione. L'hanno detto Hegel e Marx non è vero che Marx è appunto è parricida non è vero se c'è uno spettro che gira è quello di Hegel che non cessa mai di alleggiare e che cosa c'è di male? Che Hegel fosse rivoluzionario e anche questo mi ha molto divertito che Hegel fosse rivoluzionario l'avevano capito benissimo quelle idee strade che di solito sono più intelligenti di quelli di sinistra e adesso subito questo qui insegna che la realtà cambia che non è solida come si permette insegna che c'è il movimento e che il soggetto si forma nel movimento e che il soggetto in questo modo trassoma la realtà come vuole è matto è il principio monarchico doveva finire e il buon tempo antico e il dominio doveva finire la destra era capito a un certo punto Federico Guglielmo IV chiude la facoltà di filosofia di Berlino così quel covo di dragoni che è l'eghelismo viene chiuso e erano quelli di sinistra che dicevano no, tu sei troppo reazionario tu ti vuoi conciliare con l'esistente tu sei ancora teologo erano quelli di sinistra che ci dicevano poi per fortuna arrivato il maschio ha detto non capite niente state zitti lui capiva voi no poi io posso dire che capisco un centimetro più di Hegel voi assolutamente no e questo mi ha sempre reso assolutamente simpatico vi ringrazio per l'attenzione e questo mi ha detto che è stato un po' di più che è stato un po' di più che è stato un po' di più